E lo so, raga, torna lui, Omnath, Locus of Creation, proprio lui. Bentornati sul mio canale, io sono Akira, oggi un nuovo video modern, torniamo in modern e finalmente, dopo tutto questo tempo che è uscito Zendika Rising, giochiamo l'archetipo principale creato da questa piccola creatura quattromana che fa un po' di tutto, gli manca da fare solo il caffè. Forcolor Omnath, il deck control che ha riportato i control in oggi e che ha fatto veramente sfaceli e che rappresenta assolutamente il pinnacolo più importante, lo vedremo oggi qui in questo video e lo vedremo con un ospite molto speciale che tra poco presento, ma prima, come sempre, vi do appuntamento alla live che c'è questa sera alle 21, signori, stasera il giveaway è grosso, guarda, mi vergogno, secondo me impazzite, oh, eh già, avete visto bene, una Marchflash Expedition di Zendika Rising vi aspetta, quindi in live questa sera. Bene, dicevo, ho le cuffie, quindi ho un ospite, tra l'altro il deck su MTGO l'ho chiamato proprio come l'ospite, perché ho detto, oh, a questo punto gli diamo, visto che la lista è sua, completamente inventata da lui. Signori, benvenuti, benvenuto a Gerardo Delia. Ciao Gerri, ci sei? Sì, eccomi. Bella, bella, bella. Allora, ti dovremmo sentire per bene, prova a riparlare. Provo, provo. Sì, sì, ti sento. Forse ti alzo un po' il volume perché voglio sentirti ancora meglio, ma ti sento bene. Allora, come stai? Tutto bene? Sì, sì, dai, tutto a posto. Si gioca. Si gioca. A figurine digitali si gioca. Allora, Gerardo, ragazzi, è giocatore veramente serio e importante, come tutti quelli che sono arrivati in questo canale. Due proture alle spalle per lui, dove già era andato comunque a soldi e recentemente su Magic Online ha fatto un casino. Allora, è difficile ricapitolare tutto. Però, con questo deck qui, hai fatto proprio vinto, scusami, in secondo, al Modern Champs. Sì, vabbè, abbiamo splittato in finale perché, vabbè, i premi per il Super Qualifier sono gli stessi e quindi non c'era bisogno di giocarsi la finale, quindi diciamo che è come un primo posto, ecco, quel PTQ lì. Ok, perfetto. Poi ho giocato sempre questo weekend, ho fatto il Qualifier per il Mox. Due weekend fa? Sì, 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 due weekend fa. Io registro in altri momenti, ragazzi, insomma, concedetemi. E quindi ho fatto, insomma, nello stesso weekend anche dopo 8 al Mox Qualifier Modern che con il mazzo facendo sempre 8-1 in Svizzera, insomma, il mazzo sembra molto forte. Caspita, tra l'altro la lista è tua perché non ho visto una lista simile. Proprio tua, 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 Gerardo Delia. Sì, sì, qualcosa di diverso, diciamo, rispetto alle altre. Poi dicevo, hai partecipato proprio al Mox Final che non ce lo stai dicendo. Ah, certo, certo. Caspita. Io ho fatto il Mox Final 2020 e dopo, insomma, dopo tanto tempo di attesa perché avrei dovuto farlo a Seattle e invece mi è toccato farlo online per il Covid. Come ti eri qualificato a quell'evento? Sempre in Modern? Avevo vinto, no, un Open Showcase Qualifier Limited, con Limited di Coria. Pensa un po' a Limited Ho aperto un Shielded che era una specie di costruito e infatti ho perso l'ultima partita ho fatto 8-1. Non hai avuto problemi a fare 8-1? Comunque io e Gerry tra l'altro ci vediamo spesso al Wildfire perché giochiamo insieme lì ma comunque anche al Galactus siamo entrambi di Roma quindi abbiamo avuto modo di parlare un sacco di volte di Magic giocatore veramente molto attento, super simpatico che vi invito veramente a prendere come esempio. quindi grande leccatina Gerry e adesso andiamo a vedere che mazzo ci hai portato che abominio, questo è un mazzo bellissimo e ci piacerà molto giocarlo l'arcobaleno deck diciamo l'arcobaleno deck esatto, allora 4 colori Omnath montato così, intanto 29 terre perché 29 terre? Perché Gerardo decide di giocare due Mystic Sanctuary contrariamente a quanto giocano tutti e tra l'altro giochi solo un Field of Ruin vuoi spiegarvi un po'? Allora, ultimamente secondo me il meta è un po' più aggro quindi bene o male il Field of Ruin è una carta forte contro mazzi che abusano del mana e non sono quelli più presenti nel meta in questo ultimo periodo quindi ho deciso di tagliare un Field of Ruin per mettere una Scalding Tarn in più in modo che il mazzo girasse meglio e anche post side che metti comunque carte con doppio specifico diciamo non fai fatica a castarle tipo Vratta che c'è il Supreme Verdict che insomma il quarto turno la devi tirare ti serve doppio bianco poi abbiamo 4 rimozioni, ovviamente Patto Exile preferita a tutte le altre perché è più forte, poi prende Ombra, prende Scourge, prende un po' tutti un solo Bolt perché mi dicevi appunto in un'altra conversazione che abbiamo avuto non vuoi giocarne due perché fondamentalmente tanto Bolt non ammazza Scourge o non ammazza Ombra sì diciamo che è un po' il nostro quinto patto Exile che ci ricicliamo però non è una carta che è fortissima nel formato non è come qualche anno fa che Bolt uccideva tutto diciamo è una carta media quindi ne giochiamo una per avere il quinto spot allora passiamo ai drop a 2 ci sono 3 Brennan's X che direi che non hanno bisogno di spiegazione ne vincono da solo la partita contro Control or Mirror se fanno Ultimate, fanno vantaggio carte, fanno un danno a chi vi pare e quindi insomma sono fortissimi soprattutto nell'archetipo perché insomma noi abusiamo delle terre possiamo perdere una Field of the Dead e riprenderle eccetera sì sì ma poi battono tante carte che una volta erano imbattibili per i control tipo Liliana, carte così le rendono insomma molto meno forte 3 Manalik, perché addirittura 3 Manalik? è perché diciamo che i primi turni sono quelli fondamentali per sopravvivere una volta che si stappa con 4 terre con questo mazzo poi è difficile che si perde la tua priorità è riuscire a risolvere uno tra Omnath e Uro e poi stapparci e quindi Manalik ti aiuta diciamo nel processo in più è una carta fortissima Control Spells certo e però questa Troppa 2 conclude con una monocopia di Aethergast volante che se becchiamo biancone rosa la maniamo sì sì però diciamo ha giocato meno e poi in generale Aethergast è una carta che è veramente forte contro agro, contro contro, contro combo cioè becchi tutti gli archetipi per farvi capire anche Storm gioca delle carte che diciamo rosse che devi counterare quindi bene o male te la ricicli oppure tutti gli archetipi ma tu veramente non ti capi di giocare contro Elda te lo non ti capi che te la vorresti mangiare può succedere però diciamo che la cosa buona è che è talmente forte contro alcune carte che si giocano main deck tipo Blood Moon così che vale la pena giocare vale la pena giocare perfetto sì secondo me Grospire al 2x andiamo avanti col mana e con le carte soprattutto con 29 terre direi che ci sta andiamo alla curva a 3 4 euro non hanno bisogno di spiegazioni la carta è più o meno dal nome al mazzo oltre che rende questo mazzo davvero davvero molto forte doppio Teferino non triplo ci sta perché comunque abbiamo già 3 Vrenen 6 e chiaramente noi è difficile giocare contro Teferino averlo è un vantaggio ma non credo sia così essenziale giusto? beh sì diciamo che è fortissimo in Mirror però contro alcuni mazzi fatica un po' infatti una cosa che avrei voluto fare forse è metterne un altro inside però insomma bisogna pensarci a qualcosa bisogna no ma invece la domanda più importante che ti voglio fare perché io quando ho letto la tua lista ho detto ma me la gioco poi ho visto che giochi solo 2 Force of Negation non ne giochi 3 ho rosicato ho detto no non lo gioco sto deck ma perché devo giocare con 2 Force of Negation? perché purtroppo Negate nel formato più aggressivo secondo me fa fatica cioè a volte perdi le partite perché non hai risposta cioè c'hai forza come risposta che è solo a non creatura e spesso perdi da mazzi aggressivi perfetto quindi tutti si è fatto tutti i tuoi calcoli triplo Cryptic Command per andare comunque in loop con Mystic Santo ne giochiamo 2 perché Cryptic Command è una carta direi abbastanza forte triplo Omnath questo più o meno è un stock giocano tutti i 3 Omnath sì diciamo di 2 però secondo me il formato più aggro è più forte di giocare nei 3 e poi giochiamo doppia War of Promise e un Teferone praticamente siamo quasi pure un mezzo combetto cioè noi vogliamo fare Omnath Fetch War of Promise bravo vedi sì sì esatto siamo un mezzo chiaramente Teferone fare Omnath Fetch Teferone è grosso però non vinci però Omnath Fetch War of Promise c'ha in campo 2-2-2 un Omnath hai fatto 4 pizza a tutti i place walker direi stappi con 7 TR insomma è figo però anche Teferi Teferi se fai Fetch o prendi Mystic Sanctuary ti metti spot e removere in cima fai Teferi e te la peschi insomma ok bello è per turno ok passiamo alla side la side la vedo bella arrabbiata cosa mi ha colpito mi ha colpito un solo Vale of Summer allora secondo me Vale of Summer è una carta un po' situazionale al momento nel senso che in Mirror è molto figa quando hai molte minacce e quindi diciamo quando sei vuoi essere proactive giochi magari Teferi o Ashok e lo fai protetto diciamo che spesso si vince la partita però il discorso è che ho capito che nel Mirror bene o male bisogna avere più risorse dell'altro quindi avere una carta che a volte non fa nulla diciamo che non è una minaccia non è un place walker a volte ti può condizionare la partita capito quindi diciamo che a volte ti rimane in mano sei costretto a ciclartela contro i mazzi con gli scartini secondo me sarebbe stata forte se fossero stati mid range questi mazzi con gli scartini ma siccome sono aggro non hai diciamo il tempo di aspettare capito è un po' è un po' lenta per cui è una carta forte però non ne vuoi troppe quindi una sola un supreme verdict perché alla fine il formato è aggro ma noi comunque resistiamo e non dobbiamo per forza fare fratta beh abbiamo anche esplosivi abbiamo timer esplosivo è un'altra fratta più o meno timer ci difende più o meno dagli aggro e poi il problema fondamentale di questo mazzo è che giocando tre Omnath due Europromise Teferi tre criptici c'è già tanti troppo alti quindi troppe fratte succede che non le casti capito poi abbiamo queste che più o meno sono stock cioè vuoi giocare il Mirror e vuoi giocare Mystical Dispute perché ha uno counter a Jace poi adesso ci sono tanti sul TIE quindi sul TIE gioca Jace anziché giocare Omnath poi a uno questo counter ha comunque anche Omnath Aethergast che mette in cima Euro è perfetto Celestial Purge contro RB scusami aggro comunque prende tutto prende tutte le ombre di tutti i tipi e fondamentalmente ha un'altra risposta contro i mazzi Bloodmoon se non dovessimo avere necessità si 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 poi giochiamo doppio Cleansing Wildfire forte control spell e Tron diciamo che Tron e onde Dei farlo e poi in generale secondo me in alcuni matchup in cui ti mettono Bloodmoon se hai di peggio da togliere si può mettere perché fai slando su te stesso ti prendi una basica e cicli e lo puoi fare anche con Bloodmoon per terra quella è la cosa figa e poi giochiamo due Ashok che chiaramente non sono la nostra risposta al cimitero perché è troppo lenta per un dreggio per un eventuale ma noi vogliamo aiutare Titano qua no? si esatto esatto Titano e secondo me ne ho parlato pure con Mangucci insomma che penso conosciate tutti beh cioè giocare Ashok in Mirror può essere un'arma a doppio taglio perché lui dice che secondo lui è un po' situazionale è un po' cioè che se non lo fai al terzo non è il massimo e invece io testando non sono d'accordo l'ho giocato e penso che sia forte quasi sempre Ashok perché per o male levare il cimitero in un matchup in cui si fa recursion in cui c'è Uro è molto fastidioso e bloccargli le fetch ovviamente è quasi tutto quello che fa Ashok chiude Soulguide Lantern che comunque è l'unico hate contro il cimitero che noi abbiamo veramente quindi se dovessimo beccare mazzi veramente graveyard sarebbe questa la carta che metteremo oltre agli Ashok perché li mettiamo però solitamente è troppo d'arte senti mentre starto la league appunto con il deck che prende il tuo nome deck Uro Omnat Delia è troppo troppo buono dicevo quali sono i matchup negativi di questo mazzo quali sono i matchup positivi di questo mazzo al volo si e aspetta attenzione non vedo il tuo schermo non vedi più questo è un problema intanto quindi chiamo il fantastico codice sconto ragazzi se volete giocare a Magic Online e volete farlo vi consiglio di utilizzare Mana Traders così facendo potrete finalmente direi utilizzare tutte le carte del meta e bla 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 perché sono in affitto voi pagate un abbonamento mensile e dopo di quello non serve più pagare altro perché potete prendere le carte ridare le carte e così via adesso vedi si si vedo vedo ok comunque sono super d'accordo con Simone su Mana Traders io pure lo uso da due anni è un super servizio funziona benissimo qualsiasi problema te lo risolvono è top e chiaramente se doveste utilizzare il codice sconto Akira avreste il 15% di sconto sull'abbonamento ok siamo on the draw maestro musica non vedo la mano non so hai tolto la condivisione no non vedi più la mano no eh no ok ma per cui questa cosa non me l'ha tolta la sola l'avevi condiviso stavolta me l'ha tolta la sola non è colpa mia vabbè comunque cose che happens eccoci qua adesso la vedi sì 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 una mano un po' trappola diciamo un po' troppe terre quindi io forse un giro me lo farei con questa mano facciamo un giretto questa ce n'ha poca invece siamo siamo senza verde è la cosa più brutta ne ho 5 siamo on the draw sì siamo on the draw ah io penso che mallico anche questa eh però e questa è buona questa è buona levo due fecce a caso levi isola e scaldi in turn che è la fecce più brutta del mazzo ah perché non prende basiche esatto eh ovviamente abbiamo unciato male però vabbè storm ragazzi cioè comunque magic come dico sempre è un gioco di culo eh non è che adesso dobbiamo un pochino trovarlo steam vents tappata eh sì va bene va bene steen vents tappata in 2-3-6 in 2-1 però qui siamo lentissimi se non peschiamo counter il problema è che lui ci farà barrel adesso infatti cobbio elettromancer siamo praticamente al cimitero chiaramente io prendo lo faccio comunque perdo 3 penso non credo che 3 facciano la differenza contro storm al di là del fatto che si ci dà un turno ce li riprendiamo quei 3 sì ma poi in generale bisogna sempre fecciare per isola e quindi in questo caso per beh certo è giusto poi a lui attacca prima di scombare potrebbe essere che non ce l'ha attacca Bren vabbè è una buona notizia che attacchi Bren poi se non ha la terra eh noi un po' lo speriamo eh lo speriamo non troppo ma un po' abbiamo maligato a 5 qualcosa ci meritiamo insomma almeno che lui si fermi diciamo il mazzo è forte però ovviamente essendo 4 colori a volte c'ha sti problemi qui ecco eh cose che happens sì no ovvio eh no invece scomba eh dopo che sì gift un given con un mana pool 4 carte in mano eh non penso che ci salviamo beh lui prenderà Bustin Flames Grape Shot e 2 riti penso se non ha una di queste carte in mano è questa sicuramente il suo gift e noi se mettiamo piffa al cimitero manamorfosi no forse possiamo mettere i due riti al cimitero e dargli manamorfosi e piff forse eh sì in quel caso sì vediamo che che gira no ma vedi ce l'ha già piff ce l'ha in mano c'ha piff in mano ok beh due riti al cimitero due riti al cimitero comunque sì anche se purtroppo non butta bene no non butta bene per niente non butta bene per niente tra l'altro noi abbiamo pochissima side per questo matchup sì infatti ho perso appunto il mox in top 8 contro storm perché è un mazzo che si giocava molto poco e ovviamente mi ha punito però chiaramente cioè non si può essere preparati contro tutti ecco qui giustamente lui vuole solo fare i token forse fai un bel uro e reggiamo ancora che si può però siamo morti siamo morti sì 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 non è questo il miracolo sì dovremmo escare in fila omnat hour of promise perché la fesca è scriptic command specie tappata direi un token direte no 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 specie tappate la riguardo eh sì una tribu esatto quella là giusta e mancava il bianco quindi vado a prendermi il bianco sono 10 11 12 13 14 danni ma andiamo andiamo a 5 e dobbiamo fare cryptic into cryptic un po' di volte sì dobbiamo fare cryptic omnat riuscire a fare euro insomma oppure euro promise insomma incastrare queste carte purtroppo euro promise manco si salva no adesso no in questo spot qui no però magari dopo con degli omnat critici però chiaramente non è non è pensabile che tocchiamo queste carte no non è pensabile aspetta basta impegnarsi eh cioè nel senso ah però mi sa che ci ha ammazzato lui c'ha pif lui c'ha proprio più roba veramente oggi c'ha più roba di noi sì pif lo sapevamo però sì pif lo sapevamo effettivamente bisognava fa tutti i rituali del mondo fa gift and given e ci ammazza si fa manamorfo si e ci ammazza di cose poi concedere scavamo da un'altra terra vabbè non fortunatissimi non fortunatissimi allora come si salita contro storm direi una soul guide sì un esplosivo perché il piano goblin contro noi è fortissimo doppio disput doppio disput poi metterei velo summer che ha un mana e counter a gift comunque in più lui ti mette the counter giusto e poi togli toglierei io in genere tolgo le vren che non sono bruttissimi sì poi tolgo un path exile almeno lo tolgo perché comunque troppi spot ma l'othergast ti piace sì l'othergast è ok secondo me l'othergast è ok no ne giocherei una perché magari ci può avere vediamo post site che ci mette ma forse un euro va levato uro guarda secondo me cioè è proprio difficile che lo togliamo quindi io penso di no io penso che toglierei un omnut e un command per mettere due ashok un omnut e un command però dobbiamo levare un'altra carta e mettiamo allora togliamo 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 e non lo so perché si può togliere anche un teferi forse un teferi è una roll promise una carta 5 sì forse è roll promise possiamo con lo split facciamo così purtroppo storm si gioca in tanti modi diversi quindi bisogna capire che carte ha di side lui perché se ti mette il piano questo è un keep se ti mette il piano diciamo a real flame è un conto se ti mette blood moon ce ne sono tanti c'è pure chi gioca senza isole gioca a boil bisogna stare attenti e giocare in base a quello che gioca lui qua fersci tappata prendi la quella si quella geskai esatto bravo carino esatto oh una buona notizia un ottimo ashock qui fare counter sulla sua creatura e poi fare ashock potrebbe significare andare a g3 non ti ho chiesto se faccio mana sono ancora un giocatore abbastanza buono di moda per sapere che quella counter che devo prendere penso breathing pool perché doppio verde è importante doppio blu come è importante per uro giusto gli macino no io macino adesso possiamo macinare noi non sono pazzo no 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 lo so lo so infatti arriva un uro però ci siamo macinati tutte le terre che ci servivano questo sfortunato la pescheremo ci abbiamo lo spiral con calma poi questo lo lasciamo a 4 lui farà dei pezzi per attaccarselo rito goblin quanti goblin sono speriamo di no butta male pure qui tosti questo matchup ovviamente non siamo preparati cerchiamo di di fare il meglio ma dumping sphere è una cosa brutta il mazzo non la vuole guarda dumpy sphere è una carta che secondo me è figa contro tron contro però grip shot non ci ammazza non è cioè non ti puoi preparare contro storm secondo me perché troppo il matchup c'è c'è ne becchi pochi è un mazzo che comunque è forte però ne becchi pochi mi aspettavo ora ci salva solo esplosivo dalla cima no pure terra si va avanti coi criptici con calma eh no e vabbè fai niente sono proprio 14 danni si fai cross pirate cose che appens signori 2 a 0 con Gerardo con questo mazzo bellissimo proprio no non me l'aspettavo ma ci ha spaccato il matchup era sbagliato e niente la terra non è arrivata a men qui tra l'altro insomma anche se fosse arrivata sarebbe stato molto difficile allora come al solito io non so se tu hai social network stream eccetera così posso consigliare il tuo c'ho da poco twitter oh bravo da poco twitter ci piace quindi ragazzi seguite su twitter il buon Gerry e noi ci vediamo comunque assolutamente domani per il nuovo video perché insomma qui tocca come si dice lavare l'onta no yes per forza grazie ancora per aver guardato mi raccomando questa sera ore 21 la live ve lo ricordo marsh flats expedition che tocco piano piano con le mie manine così almeno non si rovini ci vediamo su twitch vi ricordo che il canale è sostenuto dagli abbonati quindi se vi dovesse insomma venire la voglia sostenere i miei contenuti perché così io continuo a portarli sempre giornalmente qui su youtube pensate un secondo ad abbonarvi l'abbonato del giorno è mess around che tra l'altro ha anche vinto un giveaway quindi ditegli a lui che emozione si prova grazie ancora per aver guardato grazie a tutti grazie a tutti